ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova video lezione vi ricordo che in descrizione trovate il link del mio canale youtube dove troverete tantissimi esercizi di chimica circa 130 organizzati in playlist questo vale per chi ancora non avesse seguito alcuna mia lezione bene quindi oggi faremo un esercizio sulla determinazione della formula minima di un composto sconosciuto ci chiede l'esercizio anzi ci dice che una sostanza è costituita da carbonio idrogeno azoto e cloro e ha dato all'analisi i seguenti valori che da 250 grammi del composto abbiamo ottenuto 0 464 di co2 0 142 di acqua e 0 252 di cloruro di argento oltre che da azoto molecolare quindi la prima cosa che facciamo è scriverci questa ipotetica formula quindi sarà chiamiamo cx h y cl z e n t ora poiché la co2 che è un prodotto di reazione costituita da carbonio idrogeno quindi tutto il carbonio del composto sconosciuto si troverà all'interno di questa co2 così come per quanto riguarda l'acqua e per quanto riguarda anche il cloruro di argento quindi ci calcoliamo per ogni composta prima la composizione percentuale sappiamo che il carbonio pesa 12 grammi quindi faremo il rapporto peso atomico del carbonio diviso il peso molecolare quindi 12 grammi mole fratto il peso molecolare della co2 e 44,01 sempre grammi su mole e il risultato sarà 27,26 per cento a questo punto ci calcoliamo i grammi di carbonio presenti nella co2 quindi saranno massa del carbonio sarà pari a 0,464 per il 27 per il virgola 26 per cento quindi la massa del carbonio sarà pari in questo caso a 0,126 grammi presenti quindi ci calcoliamo adesso la percentuale idrogeno e la massa di idrogeno percentuale di idrogeno sarà dato quindi abbiamo due atomi di idrogeno quindi 2 per 1,08 grammi mole fratto il peso molecolare dell'acqua che è 18,00 grammi su mole la percentuale 11,11 per cento ci calcoliamo la massa dell'idrogeno quindi massa dell'idrogeno sarà pari a 0,142 grammi per 11,11 per cento la quantità sarà pari a 0,0157 0,0157 grammi procediamo nello stesso modo andando a calcolarci la percentuale di cloro nel cloruro di argento e quindi percentuale di cloro sarà pari abbiamo un atomo di cloro quindi il cloro pesa 35,45 grammi mole fratto il peso molecolare 143,32 grammi mole e la percentuale sarà pari a 24,73 per cento adesso ci calcoliamo la massa del cloro che sarà pari a 0,252 grammi per il 27,43 per cento i grammi saranno esattamente al pari a 0,0623 ok a questo punto ci manca l'azoto ma come lo possiamo calcolare grammi dell'azoto per differenza cioè andando a detrarre ai 0,254 grammi i grammi di carbonio idrogeno e cloro ci troviamo i grammi di azoto quindi la quantità di carbonio idrogeno e cloro in grammi è pari a 0,204 grammi io chiaramente ho già fatto i calcoli a questo punto ci andiamo a calcolare la quantità di azoto e quindi faremo che la massa del composto quindi massa dell'azoto sarà pari a 0,254 0,254 grammi meno 0,204 grammi la massa dell'azoto sarà pari a 0,049 grammi bene a questo punto abbiamo tutti i dati per poter andare a determinare il in questo caso il numero di moli idrogeno e carbonico quindi numero di moli come si calcola la massa fratto il peso molecolare quindi iniziamo col carbonio il carbonio quindi il numero di moli di carbonio sarà pari a 0,126 grammi fratto 12,01 grammi mole avremo 0,010 moli di carbonio ci calcoliamo il numero di moli dell'idrogeno che abbiamo detto essere 0,0157 grammi fratto il peso atomico dell'idrogeno 1,008 grammi mole il risultato sarà pari a 0,0157 moli quindi per approssimazione ci calcoliamo adesso il numero di moli di cloro quindi il numero di moli di cloro sarà pari la massa che era 0,0623 grammi fratto il peso molecolare del cloro è 35,45 grammi su mole e avremo 0,00175 0,0175 moli ora ci calcoliamo il numero di moli di azoto che sarà pari a 0,049 grammi fratto il peso molecolare che è 14 grammi mole dell'azoto sarà pari a 0,0035 moli ok come abbiamo detto quindi a questo punto quindi in coerenza con la legge di Proust in cui gli elementi che costituiscono la molecola sono combinati in rapporti costanti definiti andremo a dividere il numero di moli ottenute per il valore più piccolo che in questo in questo caso è 0,0175 quindi dividendo il numero di moli per 0,00175 quindi uscirà un valore intero quindi moli moli perché è adimensionale il valore che uscirà sarà pari a 5,7 quindi il carbonio quindi il carbonio quindi x è uguale a 5,7 ci calcoliamo adesso l'idrogeno 0,00175 moli quindi il numero che uscirà sarà pari a 8,97 quindi in questo caso y è uguale a 8,97 ci calcoliamo adesso il cloro quindi siccome il valore è più piccolo è quello del cloro 0,0175 moli quindi il valore sarà pari a 1 quindi z è uguale a 1 adesso ci calcoliamo il numero di moli di azoto dividendo 0,00175 moli il valore che uscirà sarà pari a 2 quindi t uguale a 2 bene quindi adesso abbiamo questi valori chiaramente 5,7 lo approssimiamo a 6 e 8,97 lo approssimiamo logicamente a 9 quindi quale sarà la formula minima attenzione formula minima ma non formula molecolare questo noi non lo sappiamo perché abbiamo detto che quello che noi interessa è la formula minima però potrebbe anche accadere che questa molecola possa in realtà coincidere con la formula minima quindi il composto sarà il seguente c6 h9 cln2 benissimo quindi vedete abbiamo risolto il problema andando a determinare la formula minima se vi è piaciuta la lezione iscrivetevi al mio canale schiacciate un like e a tutti una buona giornata